E' doverosa una breve introduzione per spiegare cosa è successo lo scorso 8 febbraio. In commissione al Senato è stato approvato un emendamento che affronta e risolve probabilmente in via definitiva il problema riguardante il concorso per dirigente scolastico del 2017. Dopo un lungo braccio di ferro, ora vedremo in che termini si è sviluppato, infatti in commissione è stato approvato un emendamento tra cui i firmatari c'è la senatrice e la bucalo che ringraziamo per aver accettato il nostro invito con cui si pone fine a una querelle che si porta avanti nelle aule giudiziarie già da diversi anni riguardante il concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017. Sappiamo che si è interessata anche la magistratura penale su questo concorso, c'è una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Roma nei confronti di alcuni soggetti che hanno svolto il ruolo di commissari in varie commissioni d'esame, ma soprattutto la giustizia amministrativa è stata investita da decine e decine di ricorsi sia da parte di chi non era riuscito a superare la prova preselettiva e quindi contestava la stessa sia nel metodo che nel merito, sia chi pur avendo superato lo scoglio della prova preselettiva non aveva superato la prova scritta e anche qui aveva sollevato numerosi dubbi sulla legittimità dell'operato delle commissioni esamigliettrici. Quindi a fronte di questo nodo giudiziario che si era venuto a creare la politica ha trovato una soluzione, in qualche modo un compromesso che cerca di affrontare il problema di quanti si sono visti sbarrare la strada per l'accesso alle ulteriori fasi del concorso e si sono rivolti alla magistratura. In estrema sintesi poi magari la senatrice ci illustrerà qualcosa in più in dettaglio l'emendamento prevede che una categoria di soggetti che hanno partecipato a questo concorso potranno accedere a un corso concorso riservato che porterà all'immissione ruolo con il superamento ovviamente delle prove come dirigente scolastico. In particolare l'emendamento è rivolto a tutti coloro i quali hanno concorso a questa procedura e non hanno superato la prova scritta ed hanno pendente un contenzioso giurisdizionale verso il mancato superamento della prova scritta ovvero quei candidati che avendo superato la prova scritta non hanno superato la prova orale e hanno anch'essi un contenzioso pendente proprio per il mancato superamento della prova orale ed una terza categoria di soggetti, quella un po' più particolare, che erano stati ammessi alla procedura concorsuale in virtù di un provvedimento giurisdizionale dell'autorità giudiziaria, hanno superato la prova scritta, hanno superato la prova orale sono stati nominati vincitori con riserva ma in esito al giudizio del Consiglio di Stato, esito negativo sono stati restituiti al ruolo docente, quindi gli è stata revocata l'immissione al ruolo come dirigenti scolastici quindi anche loro vengono rimessi in carreggiata. Ma in che termini? Attraverso una procedura differenziata in base alla categoria di soggetti che porta alla frequenza di un corso intensivo cui seguirà una prova finale quindi a questo punto chiederei alla senatrice Bucalo che ha seguito sin dall'inizio questo lungo e faticoso iter e senatrice dopo questo lungo lavoro che la politica ha svolto su questo problema si è finalmente trovata la quadratura del cerchio, ma quali sono stati i maggiori ostacoli? le maggiori difficoltà che avete incontrato nel proporre e nel trovare questa soluzione? Direi ostacoli, no, ostacoli non direi direi un lungo e proficuo lavoro di chiarimento, di condivisione anche di alcuni momenti per trovare delle soluzioni più giuste, per dare un provvedimento che non sia lesivo di nessun interesse e soprattutto, e tengo a ribadirlo così come ho già detto ieri, in discussione generale Fratelli d'Italia aveva due fari portanti che erano quello sì di dare giustizia e quindi ripristinare in modo giusto e in modo legale questo percorso che era stato interrotto e anche il merito quindi diciamo un percorso di valutazione per arrivare a trovare tutto e quindi conciliare questi aspetti in una norma lo scopo della soluzione che è stata cercata era quella di prevenire problemi per l'amministrazione per via di tutti questi giudizi pendenti ma in che termini, cioè quali sono i rischi concreti che si temevano per l'amministrazione visto che già il Consiglio di Stato si era pronunciato salvando l'impalcatura complessiva del concorso? Io non ho pensato all'amministrazione, guardi, io ho pensato a chi aveva subito una lesione di un proprio diritto non è che io mi sveglio come alcuni partiti politici che adesso si battono il petto e che comunque sapevano di questo concorso io e dalla precedente legislatura, vedete ogni provvedimento io ho sempre presentato questo emendamento perché l'ho seguito fin dall'inizio, fin dall'inizio, anzi direi che la prima interrogazione che è stata presentata proprio a questo concorso porta alla mia firma per cui è fin dalla nascita di questo concorso che io seguo le varie disavventure io mi sono posto, come ho già detto, guardi, due obiettivi che era quello di dare e ripristinare il senso della giustizia e anche del merito io non ho avuto altri fari per portare avanti e quindi ottenere questa norma e ribadisco che non è una sanatoria, la rigetto totalmente le ha descritto bene tutti i passaggi, però abbiamo dimenticato un passaggio fondamentale che in questo concorso si accede per selezione quindi non è una senatoria perché chi vuole partecipare e quindi rientra nei presupposti previsti dalla norma deve sostenere una prova selettiva a tutti gli effetti e poi arrivare al corso che serve per dare un aggiornamento anche quindi una formazione proprio perché noi entriamo e vogliamo il merito vogliamo avere una selezione della classe dirigente e poi una prova finale abbiamo parlato di merito e torneremo sulle prove che sono previste dalla norma sicuramente noi però abbiamo registrato, stiamo registrando in questi giorni stanno arrivando parecchie mail in redazione diverse critiche sia da parte degli idonei al concorso che attendono la nomina come vincitori probabilmente già l'estate che viene sia da parte di quell'altra fetta di candidati che sono rimasti fuori dalle previsioni di legge in particolare coloro che non hanno superato la prova preselettiva hanno anch'essi pendente un ricorso giurisdizionale cosa si sente di dire in replica a queste critiche che sono state mosse? Guardi, agli idoni che non vengono assolutamente lesi perché chi legge bene la norma non lede assolutamente gli interessi di questa categoria perché chi poi supera questa prova viene inserito in coda alla graduatoria nazionale per cui non c'è assolutamente nessuna lesione degli interessi di chi aspetta le nomine poi faccio un altro passaggio ho avuto anche proteste, lei non l'ha detto, lo dico io perché io guardi sono convintissima che questa norma non lede nessuno per cui ne parlo con tanta tranquillità chi invece aspetta il concorso del 2011? veda, nella precedente legislatura tutti gli emendamenti e dico tutti i provvedimenti ad ogni provvedimento e io ho tutti i numeri degli emendamenti c'era lo stesso emendamento pur sapendo che sono due concorsi diversi il 2011 era un concorso su base regionale il 2017 è un concorso su base nazionale il 2011 è stato anche in parte previsto dalla sanatoria del governo Renzi del 2015 non dimentichiamoci che è stato annullato nella regione Toscana e nella regione Lombardia con un aspetto importantissimo che il concorso è su base regionale quindi ha una diversità anche di problematiche che si sono avute nell'espletamento di questo concorso mentre diverso è il concorso del 2017 ma mi sento di dire e mi sento di dichiarare che gli interessi e il dossier del 2011 non si chiude si affronta in maniera diversa non lo si poteva affrontare in una norma che prevede un decreto che è quello del 2017 quindi come ho già detto un concorso nazionale i vincitori del 2011 sono i casi in cui la gran parte dei casi in cui già sono vincitori già sono diciamo a svolgere la funzione di dirigenti scolastici quindi è un aspetto diverso che non può fare un'insalata e mettere nello stesso emendamento si tratta di questioni diverse affrontate in maniera diversa perfetto, infatti c'era un mio emendamento che era il 5.26 dove io avevo affrontato il tema anche della conferma dei ruoli non solo dei dirigenti scolastici ma anche quel tema urgentissimo che è un mio dossier aperto e che mi sta tanto a cuore che era quello dei docenti licenziati benissimo non perché una norma che è simile o apparentemente sembra uguale si può mettere tutti i casi benissimo io ribadisco a chiare lettere e l'ho detto anche il dossier dei dirigenti del investiti nel caso del concorso 2011 2011 per me è e resta un dossier aperto dove lo affronterò per i concorrenti del 2011 io ci lavoro con la stessa grinta con la stessa onestà intellettuale con la stessa forza con la stessa tenacia che ho affrontato e che ho profuso nel raggiungere quello della questione del 2017 ma sono due cose distinte che non potevano andare nello stesso emendamento è inutile fare un calderone e bisogna affrontare le situazioni volta per volta come ho già detto ancora e ribadisco ieri ho detto il nostro lavoro non è finito qua attenzione e io voglio dire siamo da tre mesi e io mi sono ritrovata una scuola che ha delle lacune che è stata totalmente abbandonata in dieci anni quindi è inutile che si fanno che soprattutto si utilizzano si utilizzano le risorse più belle le risorse che portano avanti questa grande istituzione per poi fare che cosa risaltare delle mancanze di un governo che è da tre mesi che inizia a lavorare quando chi invece sostiene queste critiche critiche strumentali ha avuto tutto il tempo credetemi di poter intervenire e di poter eliminare queste problematiche senza dubbio e che io li ho ereditati da cinque anni i problemi sono tanti i problemi della scuola sono tanti e vanno affrontati a uno a uno con i giusti tempi e con il lavoro serio lei mi ha anticipato una domanda cioè una delle critiche si parlava di un concorso che non premia il merito in realtà nel meccanismo che è stato introdotto si prevede una prova selettiva anche nei confronti di queste categorie per accedere al corso concorso lei ritiene che possano essere ravvisati dei punti deboli in questo meccanismo che è stato previsto mi spiego meglio questa fase di preselezione per l'accesso al corso di formazione la prova finale con quella differenziazione cioè chi ha non ha superato lo scritto deve fare una prova scritta a quiz chi non ha fatto l'orale deve affrontare la prova orale questo meccanismo differenziato ritiene possa prestare il fianco a dei rilievi anche di natura giuridica assolutamente no io lo trovo una procedura giusta nel merito cioè bisogna affrontare di nuovo nuovamente una selezione se vogliamo il merito ribadisco vogliamo una selezione perché ho letto tanto nei giornali in questi giorni dove Fratelli d'Italia parla tanto di merito e poi fa una sanatoria dimenticando e accantonando anzi la ringrazio veramente perché per la sua onestà intellettuale che ha evidenziato cosa c'è alla base di questo concorso quindi su questo io veramente la ringrazio noi ribadisco non portiamo una sanatoria e quindi vogliamo il merito merito con una selezione beh può fare e può fare mi creda c'è qualcuno che anche in queste categorie già avanza delle delusioni però era importante dimostrare soprattutto dimostrare a noi stessi che vogliamo e non abbiamo assolutamente paura di dire che vogliamo il merito e lo attuiamo nei fatti lo attuiamo con una selezione e poi si continua il percorso previsto senza dubbio gli aspiranti ripescati dall'emendamento dovranno dimostrare nei fatti di meritarsi l'accesso al corso di informazione un ultimo rilievo proprio squisitamente tecnico glielo devo porre necessariamente prevista una prova c'è una motivazione particolare per cui è stato prevista una votazione minima di 6 su 10 quando il regolamento dei concorsi pubblici prevede il 7 su 10 per le prove concorsuali no guardi questo non c'è una motivazione abbiamo affrontato questa riformulazione in armonia con il ministero e quindi abbiamo ritenuto questa votazione anche perché stiamo parlando di persone che hanno subito di tutto in questi anni già lo facciamo con una selezione ritengo che sia merito prevedere questo tipo di quindi si è trattata di una precisa scelta di prevedere la semplice sufficienza come voto per accedere al corso di formazione benissimo grazie alla senatrice Bucalo che effettivamente sono anni che si batte si batte su questo fronte a cui va sicuramente riconosciuto il merito di aver condotto in porto questo progetto su cui si lavorava da tempo la ringraziamo per aver accettato il nostro invito e le auguriamo un buon lavoro per il proseguo grazie no grazie a voi veramente grazie una buona serata grazie grazie